Ben trovati alla terza edizione della TG6, apriamo parlando della vicenda AH, fumata nera per la nomina del nuovo amministratore unico dopo la conclusione del mandato dell'attuale amministratore Vincenzo Di Baldassarre. Fino a nuova nomina la gestione sarà affidata al collegio sindacale. Francesca Romana Testi. Secondo giorno di assemblea dei soci AH presso la Confindustria di Pescara, nel lungo iter di nomina del nuovo amministratore, sindaci riuniti e ancora una volta niente di fatto. Si è conclusa con un rinvio, è stato infatti approvato un documento presentato da 28 sindaci, nel quale si chiedeva il rinvio dell'assemblea al fine di riunirsi per nominare successivamente un'assemblea dei sindaci e non l'amministratore unico. A concludere il suo iter è Vincenzo Di Baldassarre che già in precedenza aveva fatto sapere di non voler proseguire il suo incarico. Già dalle prime ore della mattina erano stati palesati dissensi e contrarietà. C'è una responsabilità il cui termine finale scade appunto oggi da parte dei soci e quindi dei sindaci di ricostituire gli organi che devono governare questa società per evitare appunto che tutto il lavoro fatto vada disperso e la posizione di chi oggi ha richiesto la convocazione di questa assemblea è proprio finalizzata a far sì che non si vanifichi tutto il lavoro fatto e si rischino conseguenze davvero pericolose per i comuni e per i cittadini e soprattutto per una gestione sana, trasparente ed efficiente di un bene inestimabile quale è l'acqua che purtroppo non eravamo abituati a vedere in passato. Secondo me oggi viene palesemente violata una procedura statutaria, quella dell'articolo 15 dello Statuto ACA che prevede che chi deve essere nominato deve presentare il curriculum. Invece al primo punto all'ordine del giorno oggi abbiamo una conferma, un'eventuale conferma di un amministratore che non ha presentato il suo curriculum e la sua domanda. Quindi già solo per questo secondo me l'assemblea di oggi va aggiornata velocemente e va aggiornata per la nomina di un CDA perché un'azienda complessa e complicata come ACA ha costi invariati rispetto ad un amministratore unico, non può non avere almeno un CDA di tre membri. E quindi questo chiediamo a viva voce, questo chiederò oggi in assemblea, vedremo come finirà. Scadutore il mandato dell'attuale amministratore di Baldassarre fino a nuova nomina sulla gestione su ventra il collegio sindacale. E la cronaca attimi di paura ieri sera in via Aldo Moro, quartiere San Donato di Pescara, per una sparatoria nei pressi del civico 130. Secondo le prime ricostruzioni, sull'accaduto un uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola da un balcone colpendo un muretto e il tetto di un'automobile. I protagonisti dell'episodio sarebbero gli stessi che il 23 luglio scorso avevano dato vita a una violenta lite in strada culminata con il parabrezza di un auto frantumato con una marmita di un ciclomotore. Ieri sera sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per una ragazza ferita a un braccio con un oggetto contundente. Per quanto riguarda le cause della lite, pare che la stessa sia degenerata nella sparatoria per futili motivi. E' un autobus con a bordo 38 persone in viaggio verso Roma dopo una vacanza. A Rimini è stato distrutto da un incendio sviluppatosi dal vano motore sull'autostrada A24 Teramo-Roma lungo un viadotto a circa due chilometri dall'uscita Colledara-San Gabriele poco prima del traforo del Gran Sasso. Salvi tutti gli occupanti. Il conducente ha notato il calo della potenza del motore subito dopo le lingue di fuoco fuoriuscire dal vano motore posteriore. Mentre i passeggeri abbandonavano il mezzo, l'autista ha tentato in vano di spegnere le fiamme con l'estintore di bordo sul posto. Gli addetti antincendio del pronto intervento GSA di Strada dei Parchi, poi le squadre dei vigili del fuoco di Teramo. I passeggeri sono stati messi in sicurezza dalla polizia stradale trasferiti su un altro bus di passaggio in un'area di servizio dove sono stati assistiti e rifocillati dal personale del 118 in attesa di un mezzo sostitutivo. Solo un'anziana ha avuto leggero malore dovuto al panico. Il bus di proprietà di una società di trasporto privato di Roma è stato distrutto dalle fiamme. Come potete vedere dalle immagini, grazie alle immagini fornite dal centro documentazione e comunicazione vigili del fuoco di Teramo. Il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina è intervenuto sul caso sicurezza degli edifici scolastici. Il presidente della giunta ha annunciato un incontro con tutti i sindaci delle zone colpite dal sisma del territorio Teramano a cui parteciperà anche il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Vediamo il servizio. In Abruzzo sono circa 176 mila gli studenti che attendono la riapertura delle scuole fissata per il 12 settembre. 1270 invece sono i plessi scolastici distribuiti sulle quattro province. Dopo il sisma del 24 agosto scorso, l'attenzione è concentrata sulla sicurezza degli edifici che ospiteranno gli studenti. E così numerose sono state le modifiche alla data di avvio. Teramo è stata capofila, fissato per il 19 settembre, l'avvio delle lezioni a causa di operazioni di controllo da parte dei tecnici e soprattutto per la preoccupazione manifestata a gran voce dai genitori degli studenti che hanno chiesto verifiche approfondite e certezze prima di riaprire l'anno scolastico. Ad intervenire sulla questione arriva il governatore d'Abruzzo che annuncia un incontro dedicato a tutti i comuni teramani presenti nell'area del cratere con la visita del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Intanto andiamo a Teramo, in provincia di Teramo, il 15 settembre con Errani e Curcio per fare il punto della situazione. Noi determineremo una prioritarizzazione per le scuole che hanno subito danni il 24 di agosto e poi partirà l'altro procedimento, quello che va ad assumere le risorse nel piano Casa Italia. In provincia di Teramo hanno subito danni nell'ordine Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Crognaleto, Cortino, Teramo Città, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Montori Alvomano. Più seguiremo altre segnalazioni che tra Vigile del Fuoco, Genio Civile, Arma dei Carabinieri e strutture deputate alla guardiania del patrimonio pubblico noi stiamo raccogliendo e verificando anche con la puntualità delle schede A e Dess della protezione civile. Intanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia ha dichiarato c'è preoccupazione ma non ci troviamo in una situazione di imminente pericolo. Nella giornata di oggi ad aggiungersi alla lista dei comuni costretti a far slittare la data di avvio delle lezioni si è aggiunto il comune di Montori Alvomano, avvio concordato per il 15 settembre a causa della caduta di intonaci e la necessità, dopo aver provveduto ai lavori di adeguamento, di effettuare polizie approfondite dei locali, organizzare gli studenti e tutto il materiale didattico necessario. E nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, i genitori teramani restano preoccupati per la sicurezza delle scuole e della città. Questa mattina alcuni di loro che si sono uniti in un comitato nato su Facebook si sono riuniti in piazza Martiri della Libertà per condividere soluzioni alternative all'emergenza. Alfredo Primante Dopo l'ufficializzazione della riapertura delle scuole elementari e medie del comune di Teramo al 19 di settembre, il comitato spontaneo dei genitori nato su Facebook si è riunito questa mattina davanti alla scalinata del Duomo in attesa di avere chiarimenti dal sindaco Maurizio Brucchi proprio sulla sicurezza degli istituti scolastici. Stiamo cercando soluzioni alternative che non ci sono state date, per cui stiamo ricercando nuovi plessi dove magari spostare i bambini o dove fare magari doppi turni. Abbiamo deciso di chiamare delle ditte dell'Alto Adige che costruiscono scuole prefabbricate per chiedere, dopo aver fatto una cernita di quanti studenti ci siano nei vari plessi, perciò asili elementari, medie e licei, per vedere quanto può costare un unico polo scolastico, in quanto tempo può essere realizzato. Vogliamo portare più progetti al sindaco per vedere di trovare una soluzione perché nell'immediato abbiamo capito che non ci sono soldi. Chiarimenti che ha chiesto anche il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo già richiesto tutta la documentazione di sicurezza per quanto riguarda le scuole. Noi torneremo ovviamente anche giornalmente a chiedere piani di sicurezza, piani di evacuazione e ovviamente se tutte le scuole sono a posto con le uscite di sicurezza, che sono i primi lavori che chiederemo urgenti e come è stato detto anche oggi la sicurezza nelle scuole dovrà diventare una priorità di questa amministrazione che non può più chiudere gli occhi e fare la figura dello struzzo come ha fatto per i passati dieci anni. C'è stato immobilismo, hanno sbagliato, adesso si devono muovere e devono fare qualcosa per questa città. Il Partito Democratico di Teramo si inserisce nella polemica legata alle scuole. Questa mattina è denunciata la mancata partecipazione al bando regionale per ridurre le liste d'attesa dei nidi comunali. Per il capogruppo del PD d'Alberto non sono stati adeguati gli edifici nonostante tre anni di tempo. Ascoltiamolo. Mancanza di un'adeguata programmazione sulle scuole. La situazione di emergenza che si sta vivendo a Teramo in alcuni istituti danneggiati o vulnerabili al seguito del sisma del 24 agosto scorso è lo spunto dal quale il Partito Democratico muove le sue critiche all'amministrazione del sindaco Maurizio Brucchi. Secondo il capogruppo DEM in Consiglio Comunale, Gian Guido d'Alberto, l'attuale situazione di incertezza è frutto di anni di scelte sbagliate e di non decisioni. Oggi abbiamo denunciato il fatto che il Comune di Teramo non ha partecipato al bando per il finanziamento legato all'abbattimento delle liste d'attesa degli asili nido, cioè un finanziamento regionale che consentiva di poter ricevere nelle nostre strutture più bambini rispetto a quelli pochi che sono stati al momento accolti. Le ragioni per cui il Comune non ha proceduto a fare la domanda e quindi a dare e concedere l'accreditamento alle strutture è il fatto che la situazione dei nidi del Comune di Teramo non è in linea con la normativa antisismica, così come prevede un regolamento del 2012. La Regione nel 2012 aveva previsto questo criterio e aveva dato poi 36 mesi di tempo transitori ai Comuni per potersi adeguare, tre anni di tempo. In tre anni il Comune di Teramo non si è messo in linea con questa previsione, è stato fatto poco o nulla proprio perché è mancata la programmazione con il rischio di smantellare completamente l'assetto degli asili nido comunali. E sempre a Teramo il Parco della Scienza, sede provvisoria individuata dal Comune per l'Istituto Musicale Braga, continua a suscitare polemiche. Dopo il no del Comitato Braga il Sindaco Brucchi risponde che a decidere saranno le istituzioni proposte. Intanto per il no al Parco della Scienza si è schierato anche Teramo Cambia. Sindaco, l'Istituto Musicale Gaetano Braga è nuovamente senza sede, l'opzione da parte dell'amministrazione è nuovamente il Parco della Scienza, un'opzione rigettata dal Comitato. C'è un'altra opzione per loro per avere una sede? Io devo capire se in questo Paese e in questa città sono i comitati quelli che prendono decisioni o sono le istituzioni. Io sono un'istituzione, per me le scelte le fanno le istituzioni. Al Braga c'è un Presidente, al Braga c'è un Consiglio di Amministrazione. Io mi aspetto che il Consiglio di Amministrazione prenda una decisione. Siamo in una situazione di emergenza per alcune strutture all'esito della verifica. Se la protezione civile dirà che quella struttura è inagibile, il Braga andrà nella prima struttura che noi riusciamo a reperire. Non è che si può scegliere. Se la struttura non è idonea? Guardi, non manderemo nessuno in una struttura non idonea. Bisogna capire cosa si intende per idoneità, perché se per idoneità si intende la vicinanza o la lontananza dal centro, allora non è idonea neanche la Molinari. Noi al Braga abbiamo dato un'opportunità. Non può essere un comitato che decide se quell'opportunità va bene o no. Siamo di fronte all'ennesimo atto di prepotenza da parte del sindaco Brucchi. Sembra che gli stia dando tutto il parco della scienza, ma in realtà gli stia dando una porzione del parco della scienza con un auditorium dove ci sono delle infiltrazioni d'acqua. Un auditorium che non è assolutamente a norma per essere trattato come una scuola in quanto ha delle scale non a norma, ha delle finestre non a norma, ha tutta una serie di problemi proprio oggettivamente che non permettono a una scuola di entrare all'interno di queste strutture. Quindi il sindaco deve smettere di insistere su questo parco della scienza e dare una struttura idonea all'istituto Braga. Ristrutturata e migliorata sismicamente grazie a un finanziamento regionale, questa mattina taglio del nastro per la scuola primaria Tiziana Fagnani di Santa Teresa di Spoltore. Questa è una sicurezza che viene diramata ai genitori e ai bambini a un territorio. Questo è un momento delicato per l'Abruzzo, dopo il 24 agosto si pensa proprio a quella che è la sicurezza, i controlli. Allora Santa Teresa oggi inaugura un polo che è stato messo a norma e sono stati conclusi dei lavori importanti. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna investire nelle scuole, soprattutto nella sicurezza delle scuole. Noi questo è il secondo intervento fatto in città e un terzo lo inaugureremo tra qualche giorno, quindi è il miglior investimento possibile oggi nella nostra città. Noi preventivamente abbiamo messo in piedi un progetto di adeguamento sismico della struttura, quindi è stato adeguato sismicamente tutta la struttura in cemento armato e poi abbiamo fatto dei miglioramenti, limitatamente alla copertura rifatta da capo, le porte, tutto l'impianto elettrico oggi a LED, le tapparelle, insomma un bel lavoro, una scuola nuova. Per poter fare questi interventi c'è stato l'intervento della regione con un finanziamento? Assolutamente sì, quindi un ringraziamento alla regione Abruzzo, oggi è presente il governatore d'Alfonso proprio qui ad inaugurare questa scuola ed è importante queste sinergie comuni e enti sovraccomunali perché è da lì che devono arrivare le risorse. E all'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo corso di fotografia a curarlo, i docenti Stefano Cesaroni, Danilo Balducci e Barbara Drudi. Germana Dorazio. È l'unica Accademia del Centro Italia ad avere un corso specifico, è stato inaugurato infatti il corso della laurea triennale in fotografia all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Si tratta di una nuova offerta didattica che pone al centro dell'insegnamento proprio la fotografia. L'idea di istituire un nuovo triennio specifico in fotografia è nata dal forte interesse dimostrato proprio da parte dei ragazzi nei confronti della cosiddetta nuova arte. Fino ad oggi l'offerta formativa a livello accademico prevedeva l'insegnamento della fotografia ma includendolo in piani di studio più ampi relegando la materia di fatto ad un solo esame. Pilastri del corso saranno i professori Stefano Cesaroni che tratterà della fotografia di moda e del ritratto. Il professor Danilo Balducci che si occuperà del fotoreportage con al suo attivo numerosi premi nell'ambito della fotografia tra cui per due anni di seguito il prestigioso FIIPA Awards. La fotografia dell'arte sarà poi curata dalla professoressa Barbara Drudi storica dell'arte da sempre vicina al mondo della fotografia e curatrice di prestigiose mostre e archivi fotografici di livello internazionale. Un corso in cui finalmente la fotografia è trattata come produttrice di arte, non al servizio di altre arti. È un corso che si rivolge a chi vorrà diventare fotografo, a chi vorrà nella vita occuparsi di fotografia. Fino a questo momento l'offerta formativa prevedeva ovviamente l'insegnamento della fotografia ma come appunto materia propedeutica ad altre materie, restringendo il campo di fatto ad un solo esame. Qui invece avremo l'insegnamento della fotografia previsto su tre annualità, sarà l'insegnamento con il maggior numero di ore a disposizione. A sostegno della materia fotografia avremo tantissime materie tecniche come la postproduzione fotografica, come la stampa in digitale, come la creazione di siti web e tante altre materie tecniche appunto a sostegno di questo, più tante materie teoriche che amplieranno il panorama culturale che è fondamentale che un fotografo abbia per poter affinare un proprio gusto e arrivare alla definizione di un proprio stile. Il Rotary Club Teramoest ha donato al Polo Museale Civico di Giulianova il nuovo stendardo del Museo Archeologico sito nella Torrione della Rocca. L'iniziativa rientra nelle finalità dell'associazione come spiegato dalla Presidente Eva Galli. Ascoltiamola. Noi portiamo avanti, come Rotary Club Teramoest con sede in Giulianova, portiamo avanti progetti di carattere internazionale a fianco del Rotary International e progetti di carattere locale. In questo momento siamo molto vicini alle popolazioni terremotate di amatrice ed accumuli e organizzeremo attività in loro favore. Per quanto riguarda l'aspetto internazionale, il Rotary ha contribuito alla eradicazione della poliomelite nel mondo, l'eradicazione quasi totale della poliomelite con il progetto Polio Plus che ha avuto molto successo. Per quanto riguarda l'ambito locale, noi cerchiamo di far conoscere il territorio, le bellezze e i gioielli del nostro territorio in modo che esso venga sempre più apprezzato sia da noi stessi che abitiamo in questi luoghi, sia dagli stranieri, dai turisti, da tutti coloro che vengono a visitare la zona. Nel particolare siamo lieti di collaborare con il Comune Giulianova e con altri comuni per mettere in luce ciò che merita di essere conosciuto da tutti. Ed ora passiamo alla pagina sportiva Pescara al completo in vista del posticipo di domani sera contro l'Inter. Il tecnico Massimo Oddo chiede ai suoi di giocare da Pescara per tentare l'impresa contro una squadra che nelle prime due giornate ha dimostrato di avere difficoltà ma che dispone di una rosa di primordine. Ascoltiamo il tecnico Massimo Oddo. A me e degli altri non interessa. L'importante è che partiamo noi. Sin dal primo minuto dobbiamo scendere in campo con quelle che sono le nostre certezze, le nostre convinzioni, sapendo di dover fare una partita di alto livello perché contro una squadra come l'Inter è sempre comunque difficile perché sappiamo benissimo che le grandi squadre nei momenti di difficoltà poi hanno giocatori capaci di fare la differenza e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, no? Quindi già, ancora di più l'Inter perché è una squadra composta da... Comunque sia, gli undici che vanno in campo sono tutti giocatori di altissimo livello e capaci di fare la differenza. Quindi per sopperire a questo gap tecnico che c'è sulla carta quantomeno noi dobbiamo fare il pescara. C'è quello che sappiamo fare, dobbiamo giocare di squadra e mettere in campo tutte quelle che sono le nostre qualità e poi vedremo cosa ne uscirà fuori. La squadra sa bene, siamo al completo. Nessuna defezione, quindi io sono contento così. e tra oggi e domani farò le mie scelte. È ovvio che c'è qualche piccola differenza fra chi è qui da tanto e chi è arrivato da poco perché questo è inevitabile anche per differenze di preparazione. Aquilani come tutti gli altri, io in questo momento so di avere 23 giocatori a disposizione anzi, ne ho 25 a disposizione, due dovranno andare in tribuna e vedrò la risposta che avrò anche sul campo a determinate cose che proveremo. A volte ci vogliono mesi per creare una mentalità, per creare un gioco. Figuriamoci se dopo una settimana un allenatore può fare la differenza. Io credo che possa fare veramente poco e quindi questo è un Inter che certamente migliorerà con lo stare insieme, con un allenatore che avrà tempo di migliorare i propri giocatori. In questo momento, fino all'ultima partita, è un Inter che chiunque ha potuto vedere che è in difficoltà. Ma questo penso che sia normale. E sono 24 i giocatori convocati dall'allenatore dell'Inter, Frank De Baer, tra questi anche Nagatomo, che ha recuperato, si candida per un ruolo da titolare. Probabile debutto per il portoghese, Joao Mario a controcampo in attacco Candreva, favorito su Eder per comporre il tridente con Perisic e Icardi. Il momento della squadra nell'azzurra, riassunto nelle parole dello stesso De Baer. Siamo felici che adesso abbiamo la possibilità di giocare tre partite, credo sia una cosa importante, una cosa positiva per lavorare sui nostri piani, insomma, come deve fare una squadra come l'Inter. È chiaro che l'unica cosa che vedo un po' negativa è il fatto che non abbiamo avuto tante possibilità di avere i giocatori per lavorare sotto l'aspetto tecnico. In queste ultime due settimane ne ho avuti soltanto sette. Questo è il primo giorno in cui possiamo lavorare tutti assieme a livello tecnico. Però ci sono dei giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare almeno 90 minuti e questo penso sia una cosa importante. Ho fiducia, credo che la squadra abbia davvero voglia di fare punti, di migliorare e sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto dei miglioramenti. Vorrei una squadra e vedo una squadra unita, vorrei che tutti avessero la stessa idea di gioco, che si attaccasse e si difendesse assieme. Credo che se riusciamo a fare questo i punti arriveranno poi chiaramente possiamo magari anche non soltanto guardare al risultato io credo che se si vince ma non si gioca comunque bene questo può essere comunque un problema. Io credo che col Palermo si sono viste delle cose positive io spero e anzi sono convinto che con le qualità che abbiamo potremmo continuare a fare bene anche a Pescara. Ed è atterrato alle 18.35 di questa sera all'aeroporto d'Abruzzo l'aereo con a bordo l'Inter che domani sarà di scena appunto a Pescara Stadio Adriatico, ore 20.45 per la terza giornata di campionato di Serie A. Quasi 300 tifosi hanno atteso la squadra nera-azzurra clamando Icardi e compagni che sono poi saliti sul pullman che si trovava già sulla pista come potete vedere dalle immagini per recarsi in un hotel dell'Interland pescarese dove la squadra di De Ber trascorrerà le ore della vigilia. In Lega Pro si è giocata nel pomeriggio Pordenone-Teramo vediamo com'è andata nel servizio. Il Teramo affonda anche nella seconda trasferta in campionato a Pordenone altra prova negativa per i biancorossi dominati dalla compagine friulana che ha fatto valere il suo tasso tecnico contro un brutto Teramo che ha palesato i limiti già visti nelle precedenti esibizioni oltre che tanta confusione. Certo le assenze di Carraro e di Paolo Antonio non hanno aiutato ma il tecnico Zauli dopo aver iniziato con Petrella a sinistra nel tridente d'attacco in cinque anni di Teramo praticamente mai era successo a gara in corso ha rimodulato l'assetto portando il folletto di Pratola sulla destra e Sanzovini a ridosso di croce. Modifiche che non hanno infastidito il Pordenone che semmai ha dovuto surrogare il forfè nel riscaldamento di Cattaneo con Martignago e Teramo che trema subito dopo otto minuti quando su azione d'angolo Arma irrompe sul secondo palo ma Rossi è provvidenziale. I ramarri fanno la partita e prima di metà tempo la sbloccano con la punizione di Burrai perfetta l'esecuzione dell'ex Foggia e Modena rientrato dopo la squalifica lui e D'Agostini le altre due novità rispetto all'undici di Forlì. Zauli apporta i suddetti correttivi e il solito Sanzovini al ventiquattresimo si rende pericoloso sul suggerimento di Bulevardi Tomei è attento. Un minuto dopo il Pordenone va vicino al raddoppio al culmine di un'azione che porta al tiro Suciu ma Rossi ci mette nuovamente una pezza. È una fase molto viva perché il Teramo reagisce d'orgoglio Sanzovini apre per Petrella che impegna Tomei in due tempi mentre di rimessa Martignago trova spazio sulla sinistra ma spara centralmente e Rossi se la cava ancora. Ultimi sussulti dalla distanza col fendente di Bulevardi. L'intervallo potrebbe essere utile per riordinare le idee e approntare una ripresa di qualità ed invece l'avvio è letale per i colori bianco-rossi perché al terzo minuto sugli sviluppi di una palla inattiva di Burrai tiro cross di Semenzato Ilari nel tentativo di anticipare D'Agostini infila la palla nella propria porta 2-0 e gara di fatto chiusa Zauli inserisce forte Jefferson per Sanzo Mine e Peterman ma il Teramo è sempre in balia del Pordenone di Tedino che affonda a piacimento tra le maglie larghe terramane. Alla mezz'ora cerca Gloria anche il difensore Semenzato che centra il palo esterno. Dopo tre minuti tocco vellutato di Berrettoni per Martignago che cerca la finezza ma trova i guantoni di Rossi. Teramo torna a essere pericoloso con lo spunto di Petrella neutralizzato dal volo di Tomei ma al trentanovesimo Rashid Armah va via in contropiede ubriaca Speranza e piazza la palla nel palo lontano per il 3-0 che manda in visibilio il Bottecchia. Il diavolo salva la faccia nei minuti finali con i ramari che hanno già la testa negli spogliatoi. Jefferson si divora un gol fatto ma sugli sviluppi del successivo corner è croce a trovare lo spazio per la rete della bandiera dopo sponda del neo entrato Carcalis. In pieno recupero Tomei vola sulla punizione di Forte che Croce non riesce a correggere. Troppo poco è troppo tardi il Teramo che esce dal Bottecchia preoccupa tanto il fatto che si torni subito in campo può essere anche un bene ma con un punto in tre gare peggiore partenza di sempre dell'era Campitelli la gara di martedì col Modena al Bonoris pareggia delicata per il diavolo. In serie D invece Vastese Pineto e Avezzano a caccia di conferme nella seconda giornata di campionato dopo le vittorie all'esordio l'Aquila a Foligno cerca il primo successo San Nicolò favorito nel derby dell'Angelini contro il Chieti. Andrea Costantini Anche la seconda giornata di campionato propone un confronto tutto abruzzese nel girone F allo stadio Guido Angelini si sfideranno Chieti e San Nicolò per i neroverdi di Alberto Mariani sarà il secondo derby dopo quello dell'Aragona di domenica scorsa gara che sembra dal pronostico chiuso col San Nicolò di Epifani favorito per la caratura tecnica dell'organico e per una condizione fisica decisamente superiore su un Chieti partito in forte ritardo nella rossa e neroverdi ci sono state delle integrazioni come quella del centrocampista Copponi ma per l'undici di Mariani non sarà facile colmare il gap fisico che si è fatto sentire nel secondo tempo di Vasto il San Nicolò cerca la prima vittoria per non perdere subito contatto dalle dirette rivali per i primi posti a caccia di conferma in trasferta le matricole Vastese e Pineto partite con convincenti vittorie casalinghe domenica scorsa per la Vastese c'è la trasferta sul campo di una delle squadre più blasonate del gruppo il San Marino che annovera tra le sue fila elementi di spicco come Olivi Olcese e Buonocunto Vastese è vicino alla firma del difensore Dani Verruschi cresciuto nel Giulianova per il Pineto di Ammazza Lorso trasferta a Pesaro contro una vista ambiziosa ma reduce della disfatta sul campo della San Maurese occhi puntati sull'attaccante Vissino ed ex pinetese Costantino mentre gli Adriatici cercheranno di sfruttare l'entusiasmo dopo la vittoria sul campo basso in attesa dei gol degli attaccanti Antenucci e Cacciatore nel girone G dopo il pareggio casalingo l'Aquila di Massimo Morgia cerca la prima vittoria sul campo del Foligno problemi in difesa per le assenze di Pepe e Pupeschi Morgia a studio alternativa e pensa ad una difesa a tre con l'inserimento del centrocampista Bartoncini nelle retrovie in attacco spazio al rientrante Bonvissuto ambiente carico ad Avezzano dove il presidente Paris spera in mille presenze al Dei Marsi per la gara contro il Flaminia la squadra di Pino Tortora prova a spiccare il volo dopo il blitz di Sansepolcro e si affida alla fantasia di Leto e ai gol di Padovani e Aquino per fiaccare la resistenza della compagine laziale ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti